Se qualcuno presentasse la mozione di sfiducia io sarei disposto a firmarla, ma lo dico a titolo personale. A dirlo è Roberto Di Mauro, capogruppo del PDS MPA all'Assemblea regionale siciliana, a proposito della mozione di sfiducia al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, annunciata nei giorni scorsi dai parlamentari del Movimento 5 Stelle all'Ars. Diciamo al Presidente della Regione, se vuole fare sul serio le riforme in Sicilia, si dia da fare, si sieda attorno a un tavolo, intanto formano una proposta perché spetta al Governo e quindi al Presidente della Regione, i partiti la esamineranno e formularono le proprie proposte. Si può arrivare in aula o meglio ancora in commissione con tanti disegni di legge e poi tirare il meglio. Noi siamo perché quest'isola possa continuare il percorso di riforme che avevamo iniziato nella scorsa legislatura, però fino ad oggi non abbiamo visto niente, quindi siamo fortemente dubbiosi che ci sia questa vera idea riformatrice della Regione. Anche il deputato regionale Totti Lombardo, a margine della conferenza stampa convocata all'Ars sulla mozione presentata dal partito sugli impianti eolici in Sicilia, prende posizione sullo scontro fra il Presidente della Regione e il PD e lancia un ancora al Presidente della Regione. Nel gruppo non abbiamo valutato la possibilità di presentare una mozione di sfiducia e parlo infatti a titolo personale. Se venisse presentata oggi una mozione allora la voterei. E sull'eolico in Sicilia infatti il Partito dei Siciliani attacca proprio Crocetta. Siamo preoccupati perché a fronte di una richiesta di 3.285 megawatt che sono state già considerate amministrativamente valide, non c'è da parte della Regione siciliana o quando meno dal Governo una sorta di progetto sul dove farle e come farle. Quindi si lascia la dirigenza dell'Assessuale dell'Energia al libero arbitrio e soprattutto si lascia senza un documento di programmazione così come prevede sia il PERS siciliano ma anche il Codice dell'Ambiente che in questo senso ha competenza esclusiva e quindi siamo fortemente preoccupati che la Sicilia possa essere aggredita in quelli che sono il suo valore reale, il patrimonio, cioè le risorse che attengono all'ambiente, il paesaggio. Grazie a tutti.